L'Italia femminile del rugby è all'atto decisivo per la qualificazione ai quarti di Coppa del Mondo. Per arrivarci serve una vittoria nel match di domenica 23 ottobre contro il Giappone. Tra le protagoniste anche la valtrumpina Sara Seye che ha giocato da titolare la precedente gara con il Canada persa purtroppo per 22 a 12.